Giovanni Macri sindaco di tropea festival della cipolla di tropea edizione 2022 ritorna alle origini si potrebbe dire dopo due anni di covid un anno che praticamente l'ha paralizzata completamente la manifestazione un anno scorso che ha reso impossibile un coinvolgimento del pubblico quest'anno si torna fondamentalmente alle origini in linea perfetta linea e sintonia con quello che era il nostro programma perché questo evento era un qualcosa di pensato da dieci anni quindi che si è inconcretizzato nel 2018 con l'affermazione della lista forza europea quindi nel 2019 ha visto la luce e quest'anno diciamo lo spettacolo ritorna a quello che era il progetto delineato nel programma elettorale quindi coinvolgimento del pubblico coinvolgimento del territorio partecipazione di chef di alto livello e soprattutto il offrire ai viaggiatori e turisti un'esperienza tant'è che il nome di da quest'anno sarà la tropea experience un'esperienza proprio a contatto stretto col territorio con la traduzione con un prodotto che rappresenta le eccellenze del medio in calabria a fianco di tante altre eccellenze calabresi perché non è la la cipolla non è altro che un uno dei fiori all'occhiello della produzione enogastronomica calabrese grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti